E' alto tradimento, banche tedesche, fondo salva stati, rubare ai poveri per dare ai ricchi, toccare i risparmi degli italiani, ma come, ma come, ma come Giorgia Meloni, ma come Matteo Salvini? Ma proprio voi che volete la Flactax, volete la Flactax, volete la Flactax, venite a parlare di queste cose, parlate di alto tradimento, di Giuseppe Conte, proprio voi che volete la Flactax, la Flactax cioè una tassa piatta, piatta, unica, unica per tutti, ricchi e poveri. Io so Serafino Massoni, eh Giorgia Meloni, ma so Serafino Massoni, con me non si scherza, eh, con me non si scherza, io sono questo qua, sono stato professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici, poi sono stato preside di ruolo nei licei classici e scientifici, con me non si scherza, eh. Voi venite a parlare che il Fondo Salvastati porta via ai poveri per dare ai ricchi, ma come, proprio voi che volevate la Flactax, la Flactax, la tassa piatta per unica, per tutti, per tutti, ricchi e poveri, ricchi e poveri devono pagare tutti alla stessa maniera, eh, proprio, proprio voi, ma proprio voi. Ah, la contraddizione, la contraddizione, proprio voi venite a parlare, a difendere i poveri, e voi volevate la Flactax, ma come fate voi, Giorgia Meloni, eh, eh, il popolo sovrano magari gli scappano, gli scappano queste cose, perché il popolo sovrano è tutto contento quando sente parlare di alto tradimento, ma Serafino Massoni però non si fa mica incantare, eh. Io le cose le metto insieme, eh, voi non potete dire che difendete i poveri, che difendete i risparmi degli italiani contro le banche tedesche, perché voi volevate la Flactax, la Flactax, una tassa unica, tassazione unica, unica per ricchi e poveri, eh, ma è la, è la carta costituzionale che dice che la tassazione è progressiva, ma la conoscete voi la carta costituzionale, la conoscete? Ma lo sapete che io per vincere il concorso, per diventare preside di ruolo nei viceclassici scientifici, eh, dovevo conoscere pure il diritto pubblico, il diritto costituzionale, eh, eh, la carta costituzionale dice che la tassazione è progressiva, cioè mano a mano che tu diventi più ricco, ci sono gli scapponi di reddito e le aliquide d'imposta. Quelli che sono più ricchi devono pagare un po' di più dei poveri, chiaro? È chiaro? Ma quale Flactax? Ma quale Flactax? Proprio voi, proprio voi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, proprio voi che avete difeso, volevate la Flactax, mi viene da parlare adesso, che voi difendete i poveri, le banche tedesche, dite che qua il fondo salva stati è fatto per ingrassare le banche tedesche? Andiamo, guardate, io qua vi metto un'osprezione dell'intervento di Giuseppe Conte in Parlamento relativamente all'alto tradimento, è importante la locuzione, si dice locuzione quando ci sono due parole, tre parole, una locuzione, la locuzione, alto tradimento, alto tradimento, il popolo sovrano ci va ammato per una locuzione come alto tradimento, il popolo sovrano, ma non se la fino Mazzoni, eh, non se la fino Mazzoni, eh. Io vi metto con le spalle al muro, eh, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, ma come, volevate la Flactax? La tassa unica, ricchi e poveri devono pagare le tasse della stessa maniera, e poi ci venite a raccontare che voi difendete i risparmiatori italiani, eh, contro le banche tedesche? Ma dai, ma dai, su, 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 andiamo, la contraddizione che non consente, capito, Giorgia Meloni? Capito? Matteo Salvini, guarda, io vi voglio bene, eh, però io vi voglio educare. Giorgia Meloni, Matteo Salvini, io Serafino Mazzoni, vi voglio educare, capito, vi voglio educare rispetto della Carta Costituzionale, la quale dice che la tassazione deve essere progressiva, progressiva, ci sono gli scaglioni di reddito e la liquida d'imposta, voi volevate la Flactax? Volevate? C'è la tassazione unica per tutti, ricchi e poveri, ricchi e poveri, e adesso ci vedi da raccontare la storiella dell'alto tradimento, dell'alto tradimento che il Fondo Salva Stati ruba i risparmiatori italiani per ingrassare le banche tedesche? Ma dai, dai, Giorgia Meloni, io vi metto di fronte alle vostre responsabilità e con me non si scappa, con me non si scherza, con Serafino Mazzoni non si scherza, va bene? Vai, ti voglio bene, Giorgia Meloni, eppure a te, io ti voglio bene, Matteo Salvini, io sono pronto a fare per voi la buona educazione, io vi posso educare, capito? Perché io sono questo qua, ok? Ok, Matteo Salvini, ok, Giorgia Meloni? Ma quale sovranismo, quale sovranismo, ma quale diretta, ci vuole l'euro nel mondo globalizzato? L'unione fa la forza, l'unione fa la forza! A Matteo Salvini, a Giorgia Meloni, a tutti voi, tanti tari saluti da Serafino Massoni!